Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Toccherà a lui, in attesa anche di altri rinforzi, caricarsi sulle spalle l'attacco del Pescara per segnare quei gol necessari a riportare il Delfino in Serie B. L'attaccante Luigi Cuppone, arrivato in prestito dal Cittadella, è sicuramente un giocatore determinante per la categoria e Mr. Colombo confida molto sul 25enne Salentino per consentire alla sua squadra di fare il salto di qualità e il calciatore, dal canto suo, promette di dare il massimo. Tanta voglia, tanta passione, tanta corsa, tanta volontà per la squadra. Quindi mi sento un giocatore che vuole aiutare la squadra sia in fase difensiva che in fase offensiva. Poi per i tifosi, quando un attaccante fa gol, è sempre un buon auspicio. Sì, diciamo che è quello che ci lavoro io durante la settimana, è proprio su questo, sulla voglia di metterci in campo su ogni palla, su ogni giocata. Quindi mi piace dare sempre il massimo. Il neobomber pescarese poi ammette che sarà un campionato molto complicato. Il girone C, infatti, si preannuncia più combattuto che mai. Il girone B non l'ho fatto, però so che nel girone C ci sono quasi tutte piazze importanti dove sono dei bei palconi scenici da giocare. Quindi per un giocatore è sempre bello, ci hai tanti stimoli. Quindi secondo me, come girone, il C è il più bello. Come è più bello, per me è anche un pochino più difficile, perché giocare in piazze importanti ti porta ad avere più pressioni. Quindi per me, per come la vedo io, giocare con tante squadre importanti è sempre bello. E il sogno di Cuppone è lo stesso di tutti i tifosi del Delfino. Uno dei miei obiettivi che mi sono posto quest'anno è di tornare in Serie B con la Maglia del Pescara, perché è una squadra che merita di ritornare in quella categoria, che è una categoria dove merita di stare. Per me, per me, per me, per me.